Tutti parlano di partono i parrucchieri o partono gli agenti immobiliari, l'economia ce la fa tutti insieme, le partenze scaglionate di questi giorni, così come sono previste, chiaramente non creano un circuito virtuoso. Noi anche come FIAIP abbiamo presentato un osservatorio due giorni fa in cui non parliamo di numeri, ma facciamo uno scenario e delineiamo un tratto preciso, che è quello di un settore, quello dell'edilizia e dell'immobiliare, che viene da una crisi che parte dal 2011, che ha perso 700 mila posti di lavoro. Prevediamo, se non riparte in fretta il mercato, con dei dati precisi, con la necessità di dare liquidità alle aziende, prevediamo la perdita di 200 mila posti di lavoro nel comparto. Quindi questi sono dati catastrofici che si uniscono alle 3B che abbiamo preso ieri da FIC, perché stanno cominciando anche i downgrade, e quindi il grande tema sull'immobiliare è quello di una necessità di regole precise, di far ripartire il mercato e di una liquidità che in questo momento non aiuta le imprese e non aiuta i cittadini. Una nota però puntuale e se volete anche con un po' di ottimismo la possiamo dare. Gli italiani, dal nostro centro studi, risulta che gli italiani stanno riscoprendo, se mai l'avessero perso, la necessità di rivedere il loro modo di abitare e quindi noi ci aspettiamo che gli italiani si rivolgano al mercato mobiliare per mettere al sicuro i loro risparmi e per cambiare anche la loro modalità di vita. Questo è un momento particolare perché di questi 400 miliardi, qui si pensa al decreto di aprile, ma c'è il decreto di liquidità che non funziona, i 400 miliardi che sono stati sottoposti all'erogazione delle banche, che sono imprese, che hanno delle regole, hanno Basilea 2, Basilea 3, Basilea 4, lì ci doveva pensare il governo a mettere in condizioni le banche di erogare più velocemente e certo non si risolve la situazione della liquidità con un atto d'amore richiesto alle banche dal nostro Presidente del Consiglio che, scusatemi, mi sembra veramente, insomma, al di là della frase infelice, però marca il fatto di una incapacità pratica nella risoluzione dei problemi. Il settore dell'immobiliare, ma tutti i settori in questo momento, hanno bisogno di poche cose veloci, certe, che ci diano la possibilità di riprendere a lavorare e che ci diano la possibilità di tenere in piedi le nostre aziende. Qui si tratta del destino delle famiglie. Non c'è dubbio.